ciao a tutti io sono il dilando gofilo oggi recensione dell'album in sile numero 179 la terza faccia della medaglia apro e chiudo una parentesi questo libro l'ho comprato ad una fiera del fumetto usato ad un prezzo davvero stracciato forse un 60 70 centesimi ma in compenso forse l'hanno mangiato i topi me ne sono accorto sull'ora di questo dettaglio ecco perché costava così poco la copertina è di angelo stan ed è davvero molto buona soprattutto dal punto di vista della colorazione anzi solo dal punto di vista della colorazione che si addice particolarmente bene all'atmosfera generale di questo disegno perché poi abbiamo un volto si straziato ma un pochino troppo insomma fa un pochino impressione sembra quasi un manieco assassino dylan qua invece abbiamo un una corporatura a peracotta perché qui molto larghi fianchi che vanno a restringersi troppo nelle spalle sembra quasi obeso da questa parte qui abbiamo degli interni del maggiolino che non convincono perché non sono dettagliati la portiera invece si davvero disegnata molto bene e il vetro anteriore qui non si potrà mai rompere in questa maniera nella vita reale quindi non non sono verosimili questi due danni testa e sceneggiatura di medda e disegni di freglieri di che cosa parla questa avventura diciamolo diciamocelo subito questa non è una storia che parla proprio di dylan dog medda ha preso il personaggio di dylan dog l'ha inserito dentro in queste 98 pagine forzatamente per permettere che questa storia poi poteva essere pubblicata perché altrimenti era impubblicabile non perché sia brutta ma più che altro perché di dylan dog qui non c'è proprio niente è una storia noir investigativa avete presente il gioco per il videogioco el e noir dove ci sono due detective che vanno in giro ecco è la stessa cosa però riportata su carta e inchiostro praticamente ci sarà un detective che dovrà risolvere un delitto in una maniera veramente molto verosimile quindi tecniche investigative davvero molto interessanti e verrà affiancato tutto il tempo da dylan per una banalissima scusa questo detective ormai ha raggiunto una certa età sta per incontrare una crisi di nervi e ha bisogno di un supporto morale di qualcuno e questo qualcuno sarà dylan quindi nulla di straordinaria la trama di fondo perché dylan appunto è stato inserito ma non giocherà per nulla un ruolo fondamentale sarà solamente una pedina che si muove quella nell'avventura tutto sommato quest'albo riceve come voto finale un 7 il voto iniziale doveva essere cioè il voto che avevo pensato era un 8 però siccome dylan davvero non fa niente quest'avventura il mondo il voto scende a 7 un caso da incubo che non esiste per un'avventura che poi ha un finale diciamo molto molto ben studiato un finale che cambia repentinamente faccia fino a mostrare la terza faccia della medaglia e non vi spoilerò nulla perché davvero il finale è molto entusiasmante molto adrenalinico e anche molto plausibile i disegni sono di giovanni freglieri e sono buoni questa volta le femmine sono state disegnate molto bene hanno un tocco di femminilità che spesso manca nei disegni di freglieri ma in questa occasione le i volti delle ragazze si distinguono da quello di dylan dog si sembra una cosa assurda ma certe volte se ci fate caso nei vari albi di freglieri non in questo le femmine hanno un volto che somiglia molto a quello di dylan dog che le rende quasi transessuali invece qui i volti delle femmine sono ben distinti da quelli dei maschi le situazioni di luce ombria sono state ricreate molto bene anche perché saranno parte predominante di questa avventura che gioca fra serate e nottate diciamo ci sono poche scene ambientate di giorno tutte quante le vignette sono proposte al chiuso quindi luoghi bui tetri tutto questo è stato rappresentato molto bene magari ci sono delle bajure delle lampade che proiettano una luce soffusa molto sottile tutti i giochi di luce che giovane freglieri ha perfettamente azzeccato per il resto vi dirò che non c'è neanche graucio e abbiamo una qui un'altra scusa davvero assurda graucio che fa le valigie va dai suoi parenti per qualche tempo quindi se ne va via subito da questa avventura senza dire ne ha ne beh adesso non trovo la parte dove graucio se ne va di casa comunque questa è stata una nota di sceneggiatura affrettata come altre per spiegare diciamo alcune situazioni che al lettore non faranno piacere molto sbrigative alcune alcune scene proprio per insomma dire al lettore è andata così non fare storie ma io le storie le faccio perché come al solito critico sempre le storie che non mi piacciono questa mi è piaciuta ma insomma così è cos'ha per il momento è tutto se questa recensione in qualche modo ti è stata utile o se ti è piaciuta condividila dove voi con chi vuoi iscriviti al canale youtube del dilandorofilo per rimanere sempre aggiornato sul personaggio di dilandog attenzione mi sono dimenticato di dire che a pagina 46 abbiamo un errore nel lettering da parte di diana rocchi meno male che ho visto al volo gli appunti vediamo un po se trovi l'errore nel lettering che era qui da qualche parte 46 si pagina 46 insomma c'è un punto dove non andava messo ecco adesso non lo trovo più è il bello della diretta comunque alcune imperfezioni non è solo l'unico errore che ho trovato ma ci sono altri errori nel lettering magari un punto in una frase così buttato lì a caso una virgola dove non andava qualche sbavatura da parte di diana rocchi ma nulla di trascendentale questo non impedisce comunque una lettura fluida e noi ci vediamo in un prossimo video dedicato al mondo dell'indagatore dell'incubo l'indagatore